Stai a scuola e tutti davvero se gli dicono che quando il remoto fa ti metti sotto al banco e ti fai così cazzare eccetera La vera cosa quando fatti il remoto ti prende e ti fa così Ma il tirato ti fa così Cioè quella è la vera cosa Io non cazzo quando ti dicono Sto al banco La calma no Fai così guardi la gente che scende e poi con calma scende